E di quattro feriti il bilancio dell'incidente in Viale Stefano Candura, un uomo e tre bambini, due femmine e un maschio. I quattro a bordo di una jeep tornavano dal parco acquatico di Pian del Lago verso la città, quando per ragioni in corso di accertamento ha preso in pieno il palo della luce al bivio Minichelli. I quattro sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia, nessuno ha riportato ferite gravi.